Oggi vorrei presentarvi un'abitazione partendo prima di tutto dalle emozioni che trasmette. Iniziamo quindi dal focolare che è il centro della casa, il luogo che riunisce tutta la famiglia. Le case raccontano prima di tutto emozioni. La scelta passa attraverso la percezione che abbiamo di noi stessi all'interno. Esistono dei codici che non passano attraverso la comunicazione tradizionale. Il percorso visivo che oggi vi proponiamo racconta un immobile eclettico, comodo, particolare e sono proprio i particolari presenti a parlare della sua essenza. Grazie a tutti. Tanto azzurro, tanto verde, tanto giallo, una casa piena di colori. Ma perché? Una scelta per arrivare al calore della casa. Il colore ha la funzione proprio di rappresentare le emozioni e di scaldare l'ambiente. Il colore è tanto usato proprio in questo momento nelle carte da parati e in generale. Questa casa trasmette al suo ingresso un forte calore, un'accoglienza molto romantica, se vogliamo, e allo stesso tempo divertente attraverso l'inserimento di tutti i particolari e di tutti i colori che troviamo nell'accessorio. Molto ben collegato e vivibile rispetto all'appartamento.